Buonasera a tutti e ben ritrovati sul canale di MMORPG Italia, qua siete con Rubaldo e oggi vi parlerò di come poter ottenere delle key in regalo per poter partecipare alla beta di For Honor. Allora ragazzi, qua gentilmente il nostro Rise ci ha offerto una guida scritta nel portale di MMORPG Italia che vi consiglio di andare a leggere, metterò il link di questa guida scritta qua sotto in descrizione a questo video. Allora lui cosa ci dice? Che per poter ottenere queste key bisogna cliccare sul link SCARS, questo qua. Una volta cliccato ci aprirà questo sito dove c'è un loading. Allora questo è diciamo un minigioco che ci fa conoscere il mondo di For Honor. Qui ci dice di scegliere la nostra arma, possiamo cambiare tra nodaci, ascia e spada. Vi dirò che tra le tante a me piace un casino la nodaci. Quindi selezioniamo la spada. A questo punto, una volta aver selezionato la nostra arma, dobbiamo scegliere una sezione della nostra arma da personalizzare. Quindi personalizziamo il manico ad esempio. Come vedete possiamo selezionare tanti tipi di manici, a me piace molto questo. Poi vediamo. Possiamo cambiare la base. Vi dirò che ci sta a pennello questa. E anche la lama ovviamente. E mettiamo questa. Confermiamo la nostra arma e otteniamo il codice della nostra beta. Qui ci metterà un collegamento ad Ubisoft e dobbiamo inserire diciamo la nostra mail. Se avete già un account Ubisoft inserite i vostri dati, email e password oppure createne uno nuovo qua. Ecco qua, io sono loggato, vedete RubaldoGamer. Continuiamo. Ovviamente per motivi più che giusti non vi ho fatto vedere il mio codice perché lo utilizzerò io. Con questo ragazzi e veramente in pochissimi passi potete ottenere un codice per partecipare a questa favolosa beta di For Honor. Quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Condividetelo con i vostri amici per farlo sapere anche a loro. Passate dal nostro forum e iscrivetevi perché questo e molto altro troverete all'interno di questo magnifico portale. Un saluto da Rubaldo e ci vediamo con un prossimo video. Un saluto da Rubaldo e ci vediamo un'altra sprappola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.